52 lavoratori della Bekert hanno costituito un comitato per dare mandato a Lega Coop Toscana di verificare la fattibilità della costituzione di una cooperativa di lavoro. Il progetto sarà sottoposto all'advisor e al Ministero dello Sviluppo Economico. La FIMCISL ha convocato per mercoledì 8 maggio un'assemblea dei lavoratori Bekert per fare il punto della situazione. I temi più caldi, la reindustrializzazione, il rilento e alcune irregolarità nel pagamento della cassa integrazione. Un milione di euro per la ristrutturazione totale del Palazzetto dello Sport di Montevarchi finanziati in parte dalla regione e in parte da un gestore privato di energia elettrica entro fine legislatura il taglio del nastro. Dopo la ristrutturazione del 2014, nuovi interventi per la scuola media di Levane dal costo di 470 mila euro sarà efficientata energeticamente e sarà completamente rifatto il tetto. Al via, i lavori per la messa in sicurezza della copertura del Teatro Impero di Montevarchi con una spesa di 24 mila euro sarà a breve incapsulato l'amianto per poi dare il via alle operazioni di smantellamento. Al via, a breve i lavori sulla frana di Moncioni che andranno a risolvere un disagio attivo da molti anni. 177 mila euro gli investimenti, il 30% dal comune di Montevarchi, il resto dalla regione toscana. Oltre 6.200 persone hanno visitato la mostra su Botticelli al Palazzo del Podestà a Montevarchi, aperta fino allo scorso 28 aprile. È un bilancio, secondo i curatori, al di là delle aspettative.